Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Oggi siamo qui per fare la sfida che è uscita proprio ora alle 7 Nel calcio da fuoriclasse si deve scambiare una rosa composta da Diciamo 5 nazionali, vabbè ora vi faccio vedere Il premio è un bel pacchetto giocatori oro premio maxi Diciamo che avevo già tutti i giocatori squadra Comunque è una sfida abbastanza easy Soprattutto per chi non ho molti giocatori alla fine E comunque avevo tutti i giocatori tranne l'Indelof Che proprio ora l'ho comprato per 600 E il portiere per 400 Poi tutto il resto Prima proprietario, prima proprietario Li avevo tutti quanti Avevo commiso altri portieri Vabbè non costavano tanto era giusto per me Per avere delle idee Vi faccio vedere Vabbè sempre tasto e vi faccio vedere I vari componenti Cioè potete anche mettere altri ruoli Ovviamente io ho fatto la Premier League Perché la Premier League diciamo sono i giocatori che ho di più Visto che ho fatto anche sbcd giocatori Dunque ho trovato anche molti giocatori Della Premier Poi il pacchetto era buono Ho detto vabbè la faccio in un attimo Non credo che userò William Dunque O Fellaini Vai andiamo a consegnare Anche questa volta un video molto breve Visto che questi video vi stanno piacendo Speriamo di trovare qualcosa di buono Che è dai tempi di Lukaku Che no 1-2 settimane fa Non mi ricordo Prima di aprire il pacchetto Vediamo che cosa è uscito di nuovo Ah ok Schmeichel Ottima carta Non credo che il prezzo sia molto elevato Una sfida infatti Anzi vediamo pure che cosa richiede Player of the Year Danisa Già di Vabbè Se può fa Vabbè non mi serve perché tengo l'SCR premium di Del bellissimo check Ovviamente hanno messo anche dei scambi di foot Incredibili Infatti Già ne sto a 5 Già ho avuto di scambi di foot E sto puntando a food Poi se non ce la faccio Mi prendo dei pacchetti Non lo so Credo di sì perché tutto il resto Non mi servono Ok abbiamo parlato troppo Vamos Ad aprire sto pacchetto Già di un euro premium maxi Non ci aspettiamo di interligare Ma si spera sempre Walk out signori Ci alziamo Walk out If ATT Milik signori Onesto Uh Milik Oggi Ora gioca anche in Napoli Me la vado a vedere Speriamo che segna Vai vai Sto ballando anche io GG E quanto vale sto giocatore Vai Andiamo sotto Chi ci sta Oh Un bel pacchetto Signori Un bellissimo Oh come fai Lenny Che ritorni Allo do E quello ritorno Quanti cazzo di giocatori ci stanno Ah ma è un pacchetto Solo i giocatori Ok Ok Questo pacchetto Vabbè ce lo metto Ah che scartarlo Come va Oh minchia Tantissimi giocatori Ok ok Vediamo un po' quanto Che dirà Forse 10k Li vale Non fanno L'offre Quanto vale Vabbè ci siamo fatti 30k Cioè cominciamo a mettere Lista Muovito un po' Ok ragazzi Il video finisce qui Hulk out Tiff Milik Onesto Visto che ho anche trovato Il bellissimo Grifondoro Non scambiabile Ecco perché sta qua Il grandissimo Grifondoro